Molte sono le app utili per viaggiare. Forever Map serve a scaricare mappe del vostro paese e di destinazione prima di partire evitando i costi di roaming dati. Lasciate il telefono in modalità aerea e divertitevi a trovare la strada fino al vostro bar preferito, alla spiaggia che vi attira di più, quella che vi porta all'hotel o a scovare i posti dove mangiare il mio urcivo da strada. L'app Nwok consente invece di trovare posti assolutamente da vedere, le gallerie d'arte e musei di fotografia più cool, dove mangiare la miglior pizza o una cupcake nelle vicinanze. Inoltre sarete sempre aggiornati su quello che c'è di nuovo da vedere nelle più belle città del mondo. Occhio, quest'app è una chicca tutta italiana. Trova la mia medicina invece è un'applicazione molto utile che permette a chi viaggia di trovare il nome di più di 4.000 farmaci nel paese in cui ci si trova. I paesi coperti in costante aggiornamento per ora sono 7. Italia, Angleterra, America, Francia, Germania, Spagna e Polonia. Ogni farmaco si presenta con una breve scheda tecnica nella lingua scelta. Insomma, un elemento fondamentale da mettere in valigia o nel telefono per viaggiare ancora più tranquilli ed evitare di trovarsi spesati di fronte ai piccoli inconvenienti di salute.